Ben tornati su Radio Italians, domenica 16 gennaio. Dunque, dunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo del caso Djokovic, partendo dai genitori del suddetto Djokovic, un punto di vista interessante. Si è reso ridicolo lui? La mamma e il papà dovevano aiutarlo? Poi parliamo della Presidenza della Repubblica e ci avviciniamo all'elezione. E' una vocalist, Monica, dice voglio una donna al Quirinale. Poi parliamo dei social come strumento di informazione per quanto riguarda il Covid. Il nostro Paolo da Bruxelles, un vocalist affezionato, si chiede ma perché con tutte le fonti di informazioni uno si rivolge ai social per informarsi per un viaggio, prima di un viaggio, cose così. E poi parliamo di sfiducia, cosa importante, se tutto questo sta minando la nostra fiducia tra di noi nell'istituzione. E per finire c'è una protesta di uno che voleva la borsa di studio e non l'ha avuta. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana, commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Caro Severgnini, dopo i complimenti per la sua apparizione nel film Supereroi, vorrei la sua opinione sul caso Djokovic, ma non sul giocatore, sugli errori anche di comunicazione che ha fatto. Vorrei la sua opinione sui genitori del giocatore. Cosa gli spinge a fare del proprio figlio una bandiera, non sapendo che in questa maniera lo fanno tragicamente sprofondare nel ridicolo? E forse creano anche problemi al figlio sul piano sportivo. Grazie, Giuliano. Beh, qualche attenuante ai genitori di Djokovic io la concedo, magari l'affetto, forse non sono neanche tanto bene informati. A lui invece, a Novak Djokovic, gli attenuanti non le concedo. E penso che quando uno è così visibile, il numero uno al mondo nel tennis, è un personaggio pubblico, tutti sanno chi è, ha qualche responsabilità in più. Invece proprio di questo mi sembra che lui se ne freghi altamente, ecco, per usare un termine tecnico. È un peccato. Sono anche convinto che quando uno è in questa fase della sua vita, un campione dello sport, o magari anche della politica, è giovane, è in forma, guadagna un sacco di soldi, ha un grandissimo successo. La chiamo la sindrome di Superman, è convinto di essere invulnerabile, però la criptonite esiste per tutti e può essere una sciocchezza, qualche cosa che non dovevi dire al momento di chiedere un visto. Non sta facendo una bella figura. Adesso non sappiamo bene come andrà a finire, perché ogni giorno cambia tutto. Secondo me alla fine non giocherà quel torneo, questa è la mia sensazione e rimarrà questa cosa, rimarrà una macchia sulla sua reputazione, spero che abbia l'intelligenza per capirlo. Ripeto, altri campioni dello sport hanno avuto questo momento, questo passaggio. Penso per esempio nel calcio a Ibrahimovic, all'inizio col Covid anche lui ha fatto un po' lo spiritoso, poi ha capito perché è intelligente o forse perché qualcuno gliel'ha detto e l'ha fatto ragionare. Ecco, a Djokovic nessuno l'ha detto, non l'hanno detto i genitori e nessuno è riuscito a convincerlo, con danni soprattutto per lui e sono d'accordo sul finale. Credo che il primo danneggiato in questa storia sia lui, non se ne renderà conto subito, ma farà un po', credo di sì. Buongiorno Beppe, sono Monica, buon anno. Si è aperta la diatriba sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica. Chi vorrebbe ancora Mattarella? Chi vorrebbe Draghi? Ma chiedo, possibile che nessuno valuti l'elezione di una donna come Presidente della Repubblica? Nel 2022 nessuna donna può essere all'altezza di questo incarico? Eppure mi sembra che all'interno del Parlamento, del Governo, ci siano delle persone autorevoli, serie, delle donne comunque che si sono distinte. Come mai, secondo te, nessuno pensa a questa cosa? Ciao! Ma secondo me le probabilità di una italiana al Quirinale sono parecchie. Arrivo a dire forse leggermente più del 50%, è tempo, sono d'accordo, e di donne dentro il Parlamento, fuori dal Parlamento. Ce ne sono molte che potrebbero ambire a quella carica. Alcuni nomi sono stati fatti, il Ministro Cartabia, ho sentito parlare di Letizia Moratti. La stessa Liliana Segre, a tempo, per poi magari lasciare qualcun altro, potrebbe essere un simbolo straordinario. Per un anno, mentre Draghi rimane a Palazzo Chigi, per un anno, fino all'elezione del 2023, lei occupa il Quirinale simbolicamente per un anno. Sarebbe una bellissima soluzione. Non accadrà, ma insomma, ecco, altro non dico, perché tanto di elezione del Presidente dovremo parlare parecchio. Aggiungo, se una donna dovesse arrivare al Quirinale, io credo che dovremmo chiamarla Presidentessa, perché noi abbiamo in italiano il femminile dei sostantivi Presidente, Presidentessa. Io so che anche di quello dovesse accadere si discuterà molto, poi sceglierà l'interessata, naturalmente. Io penso però che le donne che vogliono il titolo al maschile, in fondo, in fondo, fanno una concessione che non dovrebbero fare e segnalano un leggerissimo complesso di inferiorità. Cioè, io voglio il titolo al maschile perché, siccome è sempre stato appannaggio dei maschi, io voglio tutto. Voglio la carica, che mi spetta, perché sono brava, e voglio anche quel nome. Invece no, secondo me il passo avanti vero sarà quando usiamo la lingua italiana per quello che ha e che serve. I femminili ci sono, usiamoli. Caro Beppe, Paolo da Bruxelles, volevo avere la tua opinione su perché mai, dopo due anni di pandemia, c'è gente che ancora cerca di informarsi tramite i social su cosa sia necessario per viaggiare. Su un forum italiani a Bruxelles spesso viene la domanda se per venire in Belgio serve ABC, se per scendere in Italia serve il molecolare, l'antigenico, il PLF. Voglio dire, ci sta un sito chiamato vergeresicuri.it, una app dell'unità di crisi della Farnesina, indirizzo mail, numero di telefono di unità di crisi della Farnesina, eppure invece di consultare in due clic il canale ufficiali, la gente si affida a ignoti sui social. Boh, non capisco. Un saluto a tutti. Perché la gente si informa sui social? Perché sono empatici, perché sono rassicuranti, perché sono semplici. Che siano esatti poi non è così, non è così sempre naturalmente, perché i social è un termine talmente vasto. Spesso e volentieri le chat di WhatsApp o un gruppo Facebook sono stati strumenti importantissimi in questi due anni per informarci e tenerci in contatto. Aggiungo questo. Credo che il motivo per cui molti non si rivolgano alle fonti ufficiali siano due. Primo perché le fonti ufficiali sono talvolta complicate o irraggiungibili. Io so di diversi italiani che hanno avuto la vaccinazione all'estero, che hanno faticato moltissimo per mettersi in contatto con le asla locali, in Lombardia, in Liguria, nel Lazio e altrove, perché non rispondono al telefono, non rispondono alla mail. Allora il social comunque c'è una risposta di qualche tipo immediata, i tuoi amici, i conoscenti, il gruppo. Ecco, questa è una spiegazione secondo me. E le regole, la complessità delle regole, le regole sulla scuola, sui contagi, le quarantene, la Dada, sono veramente esoteriche. Una formula alchemica troppo complicate. E anche questo aiuta, la gente vuole semplificare, vuole semplicità, qualche volta finisce per semplificare troppo e magari credere a chi semplificando la inganna. Magari in buona fede. Ciao Beppe, sono Daniele. Questo Natale sono stato in Francia. Nonostante abbia eseguito la terza dose, devo esibire all'imbarco un test negativo eseguito 24 ore prima dell'arrivo in Italia. Stesso criterio applicato a chi non è vaccinato. Questa strategia aumenterà la sfiducia dei cittadini più dirigenti verso le istituzioni? Ma io credo che dopo tutto quello che è stato fatto dai vaccini che ci hanno salvato e per i vaccini, perché ci siamo veramente dati tutti da fare, dal governo al commissario Figliolo e alla struttura commissariale, alle regioni, a tutti noi siamo andati. Abbiamo fatto la prima dose, abbiamo fatto la seconda dose, abbiamo fatto la terza dose che chiamiamo booster in inglese, non si sa perché. Perché è vero, sognavamo che tutto questo fosse sufficiente per non pensarci più. Io sono vaccinato contro il tetano, non passo le giornate a pensare al tetano. Invece tutti quanti continuiamo a pensare, a parlare del Covid. È vero che ormai conosciamo dozzine, se non centinaia di persone, ognuno di noi che hanno contratto o in questo momento sono positive al Covid e alla fine stanno bene, stanno bene perché sono vaccinate, ripetiamolo. Allora, sì, tutto questo è vero, avremmo sperato di più e di meglio, però intanto i vaccini sono serviti, quindi arrivo a rispondere alla tua domanda. Chiedere anche il tampone in tante situazioni è un errore, il governo era stato tentato, ma ha capito che non andava bene ed era una prova di sfiducia non solo nei vaccini ma anche nelle persone, perché io credo che sempre di più nei prossimi mesi sarà una questione di responsabilità individuale. Non stai bene, hai contratto il Covid, stai a casa, hai finito, sei negativizzato, esci. Io credo che i controlli e le autorizzazioni, quando salgono i numeri, diventeranno sempre più difficili e da controllare. Ecco tutto qua. Carissimi, mi chiamo Giuseppe Macario, sono un italiano residente all'estero, tornato a Roma per motivi di studio. Lo scorso ottobre l'ente della regione Lazio per il diritto allo studio, Lazio Disco, mi ha comunicato che ho vinto una borsa di studio. Tuttavia poco dopo ho iniziato a tirare fuori una serie di scuse per non pagare e in effetti non ho più ricevuto la borsa. Come mai l'Italia tratta così male noi giovani italiani emigrati all'estero? Caro Giuseppe, io sono felice di darti spazio perché i vocalist mi siete tutti simpatici e questa mi era piaciuta. protesta perché gli hanno promesso una borsa di studio e non te l'hanno data, però tu capisci che mi mancano quei 10, 20, 30, 40 particolari per poterti dare una risposta. Quale borsa, perché, per come, dove. Però chi lo sa, magari la regione Lazio ascolta e dice Ah, il famoso Giuseppe Macario, dobbiamo dargli ancora la borsa di studio. Chissà. Vi chiedo ancora un minuto oggi. Volevo ricordare David Sassoli. Non l'ho fatto fino adesso per un motivo molto semplice. Lo conoscevo, ci siamo incontrati un paio di volte, ma lo conoscevo molto meno di tantissime altre persone, di tanti colleghi giornalisti e anche di persone che hanno lavorato con lui nel Parlamento europeo. Quindi non mi sembrava giusto affollare. C'era persone che avevano più titoli, potevano dire cose più interessanti di me. Volevo solo aggiungere che mi ha colpito, come ha colpito tutti. E provate a pensare perché ha colpito tutti. Sapete che abbia colpito me, è abbastanza ovvio, stessa età, 65 anni, stessi capelli, cioè ne abbiamo tutti e due, stessa professione, giornalista, stessa passione per l'Europa e, se posso, anche una visione del mondo abbastanza simile. Ma la cosa non ha colpito un collega come me, coetaneo. Ha colpito tutti. Sapete perché? Perché era una brava persona. Lo si è capito anche nei funerali, davvero commoventi, ma anche prima e anche dopo. Essere una brava persona, fino a qualche tempo fa, era quasi un insulto. Una brava persona vuol dire quasi uno sciocco. Ecco, invece una brava persona, quando se ne va, è proprio il saluto più bello che si possa fare a un essere umano. È stata una brava persona, ha lasciato una bella traccia nel suo passaggio terrestre. Vabbè, buon viaggio David e noi ci rivediamo, risentiamo domenica prossima. Grazie. Radio Italians, i vostri vocali della settimana, commentati da Beppe Severnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Corriere Daily, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese.